Jack, ci sono problemi, ogni tanto va via l'audio. Eh, lo so, lo so. Ma deve essere complicato con il mio cervello. No, sarà tutto il cervello che ti sei bevuto stanotte, secondo me. Può essere. Comunque Omar ti dice, vai a lavorare, vende più di schiaufano e non vende aperti di te. E questo la dice lunga su quello che fai. Vai a zappare, fai il dito. Omar, non la fanno nulla, va. Vai, Jack. Non so neanche voi di mandarti a fare in curva. Sei trovata a puzza da qua, guarda. Vai via.